ragazzuoli è la tanto attesa tier list pomeridiana siamo tornati welcome back ragazzi buongiorno 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 come state allora prima di fare la tier list come vi ho detto si va a vedere le deck che hanno fatto il massimo del risultato nel qualifier historic play in che introduce al qualifier della settimana prossima attraverso il formato best of one e ovviamente il formato che tutti noi o comunque la maggior parte di noi apprezza ovvero il historic l'historic per l'appunto allora tra queste deck list ci sono anch'io è stata una soddisfazione enorme come dicevo prima in chat ragazzi quando mi fate i complimenti tenete conto che l'ho vinto con un mazzo out of meta creato da un membro della nostra community e semplicemente aggiustato dal sottoscritto quindi una vittoria un pochino globale mi piace considerarla una vittoria globale non è nel mio merito c'è l'averlo manovrato e aggiustato però una vittoria globale e questa è una cosa bellissima perché questa community io voglio che sia così voglio che sia sempre originale e che assolutamente proponga cose così quindi tanta roba il gg alla community grazie il gg alla community allora ragazzi io ho raccolto tutte le deck list che ho trovato sicuramente ne avrò missata qualcuna vi chiedo scusa vi chiedo scusa ma sicuramente ne avrò missata qualcuna però penso che comunque quello che ho trovato dovrebbero essere sufficienti allora partiamo da questa vi tolgo arena sotto ragazzi perché un attimo eh vi tolgo arena sotto perché esatto se no stona un pochino allora partiamo con un classico ha fatto un 6-1 cer belcer che avevamo già detto tutti essere un mazzo molto molto forte all'interno del panorama best of one ok sapevamo tutti che cer belcer sarebbe tornato ad essere uno dei migliori combo in pompa magna e infatti questo ragazzo è riuscito a portarlo a premio e non mi stupisce questa cosa non mi stupisce perché un grossissimo grossissimo problema ragazzi di questo qualifier è stata la sovra presenza di gatti ok diciamo che non è un problema nel senso che rende brutto il formato quindi non prendete la parola problema come se fosse una cosa brutta del formato però il problema dell'ultra presenza di gatti nel formato è che vanno a favorire mazzi come questo vanno a favorire mazzi che tendenzialmente giocano da soli no perché come potete vedere qui è vero qui lui ha diciamo così optato per una soluzione che comunque gioca rimozioni perché gioca showbasside e gioca brotherhood end però al di là di quello sono pronto a scommettere che qualche game l'ha vinto on the play semplicemente facendo quello che fa il mazzo terra terra tesoro vinco ci scommetterei perché succede perché è un mazzo che funziona così è sempre funzionato così la gestione degli aggro funziona qualora tu non hai una mano di partenza già ottimale e funziona comunque funziona l'abbiamo detto in tantissimi che cher belcher sarebbe tornato in pompa magna e in pompa magna cher belcher è forte in best of one è forte sia in questa versione izet che è un po più classica e che vi faccio notare gioca anche l'eruption come carte nuove ma è forte anche nella versione simic che però non ho trovato quindi non penso che qualcuno lo abbia portato a fare 6-1 o quantomeno che abbiano pubblicato il risultato su internet in qualifier l'avevamo detto ragazzi cher belcher è una bomba cher belcher in best of one è una bomba soprattutto in un metaggro e ripeto secondo me questi risultati del qualifier daranno vita se non direttamente la settimana prossima perché comunque servono tante risorse ai giocatori in breve tempo daranno vita a un best of one a un formato historic best of one molto combo control piuttosto che aggro proprio perché a meno che gli aggro trovino il modo di adattarsi a questo mazzo e all'altro mazzo di cui poi andiamo a parlare secondo me secondo me si arriverà inevitabilmente a ad avere una una situazione in cui questi combo devono essere contrastati dai control quindi vediamo vediamo no non ci sono maghi control sì stupisce anche a me che ci siano gli show aside ma ragazzi alla fine non è vero neanche che stupisce perché chi se ne frega no non gli serve tanto questo fa tantissime terre tappate quindi può giocare il bolt nel suo e quindi boh dobbiamo non è che cambi poi tanto mi piace molto che usi gamble è un bel mazzo c'è poco da dire ragazzi cher belcher è uno dei mazzi più forti del formato e lo ha dimostrato anche in questo in questo qualifier lo ha dimostrato poi ragazzi il fratellino io ripeto che secondo me questo è indubbiamente insieme a cher belcher forse forse si equivalgono un pochino il miglior mazzo del formato non lo so falux dopo ne parliamo in tier list di questa cosa bisogna capire un pochino questo secondo me nelle sue 10.000 versioni e ne vedremo credo 3 o 4 oggi questo è indubbiamente il miglior mazzo del formato a livello di power level questo è in tutto e per tutto un combo che può spaziare dal chiudere al turno 2 all'incastrarsi al chiudere al turno 3 turno 4 ma è veramente forte ci sono alcuni match in cui non puoi fare niente contro di lui soprattutto se giochi una lista aggro che non ha reattività contro il cimitero e puoi fare poco anche questo è uno dei pochi mazzi che viene regolato nel formato dalla presenza dei control per fortuna c'è un control ancora nel formato che è in alta posizione anche nel qualifier però ripeto questo mazzo che è un reanimator turno 2 o turno 3 o turno 4 molto simile al vecchio dragonstorm con la differenza che non gioca dragonstorm ma gioca breccia ultimatum e le sfingi insieme a persist e raga c'è poco da dire cioè questo è un combo forte 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 questo è un combo forte 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 lo si può giocare in 10.000 versioni diverse questa versione in particolare non gioca i counterspell ma ci sono anche quelle con i counterspell che secondo me sono un po' più forti di questa e ragazzi in best of one se parte on the play e per caso di secondo o di terzo ha pronto la combo baracche e burattini via cioè non si può fare molto non si può fare molto soprattutto se sei on the play e dall'altra parte ti hanno fatto solo guida a Gianni e quindi è naturale che in un qualifier tempestato di gatti e questo ha fatto il suo porco lavoro benissimo benissimo un membro della nostra community ha fatto 6-0 chiudendo tre volte di secondo tre volte su sei raga tre volte su sei è tanto è tanto ci sarà stato un po' di fortuna ci saranno state cose la dura verità è che secondo me siamo davanti al mazzo che fino a quando il meta non si aggiusta e non torna ad essere un pochino più controlloso nei primi tre turni questo mazzo è forte questo mazzo sono veramente forti questo mazzo è veramente veramente forte poi 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 dopo parliamo di ban o di altre cose assoluti altra versione dello stesso mazzo anche questo ha fatto 6-1 ragazzi anche questo ha fatto 6-1 questa è la versione che mi piace un pochino di più ma anche qui non ci sono i counter come potete vedere qui ci sono c'è una risposta in più che è purga c'è tanto regain life e tanta pescata con faithful mending però è lo stesso è lo stesso mazzo ragazzi è lo stesso mazzo è lo stesso mazzo e anche questo ha fatto un 6-1 facile e c'è poco da dire ragazzi questo gioca anche omniscienza tra l'altro io ripeto se questo qualifier è uno spaccato di come sarà il best of one futuro questo mazzo è il più forte è il più forte però viene contrastato molto bene dai control se non è on the play e a turno 2 è pronto perché può farlo con fateless shooting può farlo però lo faceva anche grisfang non so se vi ricordate non era così forte poteva farlo anche grisfang ai tempi d'oro ok ripeto se quello che sto dicendo è corretto prepariamoci perché il meta diventa combo control sicuramente perché gatti questo lo guarda letteralmente lo guarda oppure oppure cosa che è plausibile ma non so se è auspicabile potrebbero iniziare a giocare surgical potrebbero iniziare a giocare rest in peace ma non capisco quanto ne valga la pena anche perché poi magari ti trovi contro altri match up tipo control dove va bene surgical ok togli kalim ma rest in peace due mana passo non è mai bello girarla anche con un con un raptor non è mai bello è la stessa cosa surgical in realtà se la giri con raptor non è esattamente bello questa è forte questa lista è forte punto sono tutte liste bellissime tutte liste molto molto simili tra di loro sottolineo queste liste hanno iniziato a giocare tutti i 4x di mana confluence il baina vi disse tempo fa guardate che mana confluence in storica è tanta roba e infatti e infatti vamos andiamo avanti ragazzi è la terza di fila che che guardiamo ed è sempre lo stesso mazzo sempre lo stesso mazzo sempre lo stesso mazzo anche questo in una variabile diversa penso molto simile alla prima adesso devo riguardare le liste per vedere se c'è qualche piccola differenza sicuramente c'è qui c'è victimize addirittura carta nuova anche questo è forte anche questo è forte è forte è forte ragazzi dico cioè sembro ripetitivo ma è veramente buono cioè è veramente buono come mazzo questo veramente veramente buono ed è molto molto solido quindi attenzione qui c'è il stitcher qua cosa c'era? fatemi vedere ma forse è praticamente la stessa lista solo che l'hanno fatta due per due giocatori diversi sì c'è qualche piccola differenza c'è due victimize qua e una victimize qua sì qualche piccola differenza c'è ma è lo stesso identico mazzo ragazzi è lo stesso identico mazzo poco da dire poi abbiamo il primo mici ecco uno dei mici che ha fatto 6-1 questo mici è un micio classico non gioca i drop a 3 quindi non gioca flaghe gioca 3 bombardament che è la carta più forte del mazzo indubbiamente dopo dopo il raptor gioca 4 a gianni perché come abbiamo detto a gianni è l'unica carta che bannerei da questo mazzo non dico che si può cioè non si possa giocare non dico che è da bannare dico che qualora wizard dovesse ragionare sul formato per x motivi e dire qual è la carta che tolgo da gatti per nerfarlo è a gianni perché a gianni è è una leggendaria che può scambiarsi quindi non è non è veramente una leggendaria è una leggendaria che si può auto riciclare quindi ci siamo poi c'è la questione dinosauro la questione dinosauro secondo me sarà una questione che non riguarderà solo l'historic qualora anche in modder e in altri formati come il timeless venisse ancora così costantemente giocato può essere che un'altra carta da togliere sia dinosauro potrebbe essere sì 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 potrebbe essere comunque questo gatti fa il suo 6-1 gatti si conferma essere il miglior indubbiamente agro del formato per la sua velocità e per la sua prestanza faccio notare una cosa in questa lista oltre alla scelta di giocare tre bombardament ci sono altre due scelte due scelte che a me personalmente piacciono la prima 4 S per Sentinel 4 S per Sentinel è tanta roba perché dico che 4 S per Sentinel sono tanta roba perché Sentinella è tornata ad essere una carta molto 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 fastidiosa contro i control diciamo che fare una Sentinella che si può prendere una removal al posto di un pezzo come Ajani o di un pezzo come Osselot o come Guida e fa vantaggio carte è decisamente buona senza contare il fatto che se poi iniziano i mazzi combo comunque Sentinella ti fa pescare una carta ogni spell che fanno se non hanno removal quindi è ottima è veramente buona in questo formato e hanno abbassato le Static Prison ci sta molti giocano il 2 per delle Static Prison c'è il Sacro Gatto che vabbè è opinabile Sacro Gatto vi sono tutte scelte un pochino belle mi piace che ci siano varietà anche in questi mini mazzi Sacro Gatto non è una di quelle scelte che mi fa impazzire però mi piace c'è il 2 per di Static Prison il 4 per di Galvani che non stiamo neanche qui a parlarne e gioca un amuleto in meno rispetto ad altre liste e poi c'è il Sun Cleanser Cleanser scusate per il Mirror eccetera e poi la 2 per di Felia anche quella molto carina che sinergizza con con Ajani molto molto bella ah è la lista di Nassif perfetto capisco mi piace mi piace mi piace ci sta che abbia fatto questo 6-1 mi piace mi piace mi piace mi piace poi questo no qui c'è qualcosa che non va eccolo qua e qui invece abbiamo l'antagonista di Gatti perché è Gatti Aist ragazzi e queste sono liste carine perché io ci ho giocato contro questa ho rischiato di perdere se non fosse che poi ho trovato doppia vratta e ho tanti cari saluti anche se mi rubi una carta perché mi piace tanto anche questa lista qua perché gioca Pete in Needle di Main raga gioca Pete in Needle di Main e ha fatto 6-1 queste sono le scelte che determinano quando un giocatore è forte o meno in best of one quelle sono le scelte la scelta di rinunciare a due carte in un mazzo così prestabilito per giocare una carta che è forte contro determinate minacce perché Pete in Needle ferma un sacco di roba ad esempio gli artefatti avversari che qui non gioca faccio notare eh avete notato che non gioca gli artefatti questa? fantastica questa cosa ragazzi guardate che è geniale quella cosa qua mi piace un casino questa scelta questa è proprio una tecciata forte è una tecciata bella sono quelle tecciate fighe che tu dici cazzo questo è un genio è fantastico e poi gioca ad artiglieri anche in due per anche lui il due per di static prison il quattro per di discharge bello 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 sun cleanser sempre di main in una copia bello è il ping hand tutto tutto bello questa è una geniale questa mi piace tanto come list questa quando l'ho vista ho detto cazzo geniale geniale e infatti ha vinto è geniale ragazzi è fantastica questa cosa mi piace molto qui non c'è sentinella però è vero non c'è sentinella perché probabilmente non ne ha bisogno non lo so mi piace molto però mi piace mi piace mi piace molto è rampengo ti perdi la bellezza di questo best of one però perché è veramente una figata invece tu immagina essere l'avversario che ti fa una carta che in teoria può attivare la sua attivata quanto vuoi e questo ti dico ah ok pt needle e tu rimani lì oh cazzo questo mi ha counterato tutte le copie di questa carta punto è fantastico è una genialata è una genialata poi 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 altro gattino altro gattino che fa 6-1 e non stupitevi se ci sono tanti gatti c'erano tantissimi gatti che che hanno girato in questo perché non lo state vedendo non lo so forse ho schiacciato qualcosa io non stupitevi se ci sono questi gatti l'hanno giocato in tantissimi altro gattino altra lista diversa qui abbiamo la Monosho Kenzan quattro voice of the blessed tre Sorin questo è Mardu però vi faccio notare che nella mana base il Mardu viene dato solo dalla mana confluence che è una scelta è una scelta abbastanza particolare nel senso che alla fine ha solo i tre Sorin che ci sta però non gioca neanche una copia della terra che va bene con le energie eppure ha fatto 6-1 ci sta ci sta sicuramente ci sta sicuramente ah sì ha due godless shrine anche hai ragione Rugicos ha anche due godless shrine questa lista è buona va per la variabile vite perché gioca Solvarden è una variabile anche questa di gatti mi piacerebbe sapere mi piacerebbe sapere come si sono trovati tra di loro se si sono trovati come si sono menati se è valso tanto l'on the play on the draw rispetto ad altri fattori se il colore in più o il life gain in più ha inciso se aver trovato Bombardament prima o a Gianni prima ha cambiato la partita mi piacerebbe avere tutti questi dati purtroppo non li abbiamo ma sarebbe una figata sarebbe una figata perché da queste piccole cose si deve andare a delineare la strategia più forte dell'aggro sicuramente come è successo per Maghi tempo fa però bello perché sono tre liste completamente diverse abbiamo due Boros e un Mardu bello non sto neanche qui a dirvi quanto forte quanto forte è Sorin quanto forte è Sorin perché è una carta veramente fuori di testa poi questo è quello che ha vinto con Yagmoth il suo mazzo è quello di Kapala quindi se volete vedere il suo mazzo adesso ve lo trovo è questo qui questo ha vinto con Yagmoth la lista più aggiornata è questa ok quindi anche Yagmoth fa 6-1 al qualifier è la lista classica con Convok è un combo è sicuramente una lista solida ha fatto 7 sia in best of 1 che in best of 3 praticamente perché aveva vinto anche una metagame challenge questa lista qua Yagmoth è forte si vede poco negli eventi normali ma evidentemente c'è chi sa giocarlo molto 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 bene rimane un mazzo molto forte c'ho poco da dire c'ho poco da dire è un mazzo forte ragazzi è un mazzo forte che nelle mani giuste vince molto semplice è un mazzo è un mazzo forte è un mazzo forte mazzo sicuramente non da tutti però in tutti gli eventi c'è Yagmoth ragazzi in tutti in tutti gli eventi c'è Yagmoth e io cosa devo dire questo è un mazzo forte punto e sono contento contentissimo di vederlo anche qui al qualifier play in best of 1 poi questo abbiamo visto questo pure questo è l'ennesima versione diversa di gatti un po' più control rispetto alle versioni normali gatti che gioca fable of the mirror breaker e flaghe io ve lo dico e 4 static prison tra l'altro io ve lo dico secondo me questa è la versione più scarsa del mazzo ok infatti anche dal nome boris energy un pochino si capisce per completare il meme io ve lo dico gattari se giocate gatti secondo me questa versione è brutta e vi spiego anche il perché non dico che sia brutta in mirror perché probabilmente in mirror va bene questa versione qua ha più removal più gestione della board fa comunque le cose da gatto ok ma contro altri matchup e mi viene in mente jesky control questa fa schifo ragazzi questa è brutta contro jesky control perché salvo una partenza veramente spinta ma veramente spinta a rinunciare a bombardament per le lighting ilix contro control non mi sembra un'idea che apprezzo ecco però ha fatto 6-1 anche questa ragazzi chapeau tanto di cappello questa è la lista con cui vincete con cui io personalmente ho vinto meglio in qualifier l'ho trovata l'ho asfaltata subito perché non ha senso secondo me non ha senso nel senso che tante volte rischi che amped raptor giri flag e basta e te lo esili e perché perché prendersi questo rischio o che giri fable perché non lo so però ha fatto 6-1 chapeau fatto 6-1 secondo me il mirror è più forte quindi potrebbe aver trovato tanti altri gattini e il mirror è più forte obiettivamente è più forte perché fa vite fa un po' più di vite fa un po' più di controllo di gestione però ripeto al di là di quello cioè giocarla così senza i reprieve senza niente è una metà via che dico ok eh ho rinunciato ai bombardament perché punto di domanda e non so non mi fa impazzire non mi fa impazzire gioca anche 2 den of the bugbeer per il late game sicuramente è una lista forte ha fatto 6-1 però personalmente io dico che le altre sono un pochino meglio ecco un pochino meglio sicuramente in mirror questo è forte non ci non lo metto in dubbio e qua iniziano i mazzi che mi piacciono prima versione di gesky control che ha fatto 6-1 bomba punto bomba punto fortissimo mazzo della madonna non vedo l'ora di giocarlo in evento domani punto mi piace un casino ragazzi è bellissimo è bellissimo è bellissimo perché fa due scelte molto precise la prima non ci sono planeswalker la seconda gioco 4 vratte più forti di historic le nuove vratte a 2 più x terzo 3 snapcaster mage bellissimo 4 2 spell snare 5 2 delage 6 3 kalim 4 eliche 4 discharge 2 counter che rubano possesso e 2 fiamme di anor raga bellissimo questo mazzo il terzo colore potrebbe renderlo instabile ma vi faccio notare la mana base guarda la mana base si niente ho rimchant anche guarda la mana base che bella che è pulita pulita ragazzi pulita la mana base 2 isole 2 scusatemi 2 pianure basiche un castello blu un castello blu 1 ai gangio 1 montagna rossa 2 doppie che entrano stappate t3 3 shockland 3 shockland e quella che penso sia una che entra stappata t3 bellissimo questo mazzo molto chiaro lui ha un un compito preciso lui lui non importa vincere da control lui vince gestendo la la board dell'avversario tranquillo poi prima o poi o arriva flaghe o arriva kalim o ancora meglio contro alcuni matchup quella in ver polarity ruba la wincon è geniale è geniale questo io lo voglio giocare lo voglio provare e lo voglio personalizzare anch'io mi piace un casino quel mazzo qua bellissimo bellissimo bello davvero questo è proprio bello e capisco perché l'ha montato così perché regge perfettamente gli aggro è fantastico bravo 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 giocatore orientale non a caso sottolinea poi suo fratello ragazzi guardate che belli questi mazzi però guardate che belli versione molto simile non gioca le brotherhood gioca le purghe e poi vabbè di questa lista non mi piace expressive iteration non capisco perché giocare iteration però ok va bene raga 4 veto si è meglio classica l'è meglio 4 veto abbiamo giocato anche in uv control è veramente forte 4 veto sapete perché gioca 4 veto questo ragazzo vediamo scrivetelo in chat è facilissimo esatto esatto questo qui forse senza l'iteration dico io perché puoi fare vantaggio nel tuo turno meglio con iteration per un control di questo genere questo qui secondo me sarà il mazzo più forte contro il combo nel prossimo meta è fortissimo questo mazzo forte 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 e anche qui guardate la mana base pulita della quale però non mi piace un aspetto molto importante molto importante non ha basiche è sbagliato è concettualmente sbagliato non avere basiche perché giocando tre flaghe il pericolo di path to exile su flaghe c'è io una basica la giocherei poi lui ha fatto 6-1 tanta roba il mazzo è bellissimo io una o due basi che le metterei però tanta roba sì esatto basta uno slando cioè io due basi che le metterei ecco almeno due basi che incontro le metterei sempre non condivido la scelta di non giocare però questo mazzo è bellissimo questo mazzo al di là delle lande è proprio bellissimo bellissimo guardate cosa ha fatto 6-1 al qualifier questo non è il reanimator nuovo questo è il dragon storm vecchio regà dragon storm vecchio ha fatto 6-1 al qualifier dai regà se non è questa la consacrazione di un metacombo che cos'è cioè per forza ha fatto 7 per forza non c'è i gatti ti attaccano e basta non ti fanno niente al di là dell'aggressione e per forza questi fanno 6-1 al qualifier play in best of one ma guardate che è palese è bello cioè mazzo classico solve cioè non c'è niente di nuovo in questo mazzo niente è dragon storm è dragon storm è dragon storm punto 6-1 easy easy 6-1 facile 6-1 facile via mazzo normale c'è questa aggiunta della modale che boh bello cos'è questo drop a 2 che c'è qua sotto ragazzi questo io non lo gioco che roba è qualcuno lo sa il primo dei drop a 2 in alto che cos'è è rosso quella lì non so che cos'è qualcuno lo sa in chat io non lo so un drop a 2 uno rosso uno generico vabbè eh vabbè però tanta roba cioè cazzo ragazzi questo va al qualifier grazie a questo mazzo qui eh scattino pesco complot può essere può essere può essere vabbè comunque è una lista normale ragazzi cioè al di là di quella carta lì poteva fare questo risultato chiunque quindi bellissimo 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 cioè bellissimo punto bellissimo punto altra lista altro G-Sky Control questo è quello che ci hanno giocato contro stamattina che gioca Proctor sincero questa è la lista che mi piace di meno perché qui gioca Lotus Field e non lo so io queste allora queste liste me l'hanno giocata contro tra l'altro il qualifier nella run in cui penso di aver fatto no nella run prima forse no nell'ultima run in quella dove ho fatto la qualifica me l'hanno giocato contro ragazzi è bruttissimo perché a un certo punto si tappa fuori e nel momento in cui si tappa fuori tu hai tanto tempo però ha fatto 6-1 quindi non è bruttissimo è stato brutto contro di me scusate intendevo quello però come mazzo è buono come mazzo è buono come mazzo è buono si si questi sono tutti giocatoroni questi sono tutti giocatoroni e c'ho poco da dire è un altro G-Sky Control bello forte nel meta ci sta da dio gioca tutte le vratte più forti le risposte più forti i counter più forti il counter con l'energia è molto forte basta ragazzi cioè questo è il meta control combo anzi scusate combo control e aggro punto questo è il meta questo è il meta nel caso qui abbiamo forse questa è uguale all'altra fatemi vedere se per caso è uguale ho aperto due volte la stessa vero? sì ho aperto due volte la stessa quindi niente quindi questa era l'ultima ragazzi queste sono le liste che ho trovato queste sono le liste che ho trovato che hanno fatto il massimo del risultato in questo evento in questo evento e poi ragazzi ce n'è ancora una però poi ce n'è ancora una ce n'è una che non si aspettava nessuno che non era presente nelle statistiche e che è la nostra e che è la nostra e non sono stato il solo a fare la qualifica perché anche un altro dei nostri ha fatto qualifica con questo mazzo ragazzi questo mazzo è fortissimo in questo monog non ci sta dietro no le congratulazioni vanno fatte là no io ti ringrazio ma vanno fatte alla community non a me questo mazzo è fortissimo ragazzi perché gatti non vince mai contro questo mazzo qua se vince vuol dire che è proprio partito velocissimo ma se ha anche una sola partenza normale questo mazzo gli mangia in testa forte 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 noto e faccio notare a tutti voi che anche qui si giocano le ratte nuove necro dominance in historic è una carta devastantemente forte devastante no sono un giocatore normalissimo devastantemente forte ve lo posso assicurare è una carta forte proprio piccola soddisfazione personale grazie Jorx per il prime grazie di cuore benvenuto tra gli abbonati grazie 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 faccio notare ragazzi che questa l'abbiamo inventata noi ed è stata la lista più condivisa e più apprezzata su twitter del qualifier bellissimo sono contentissimo sono contentissimo però non sono le uniche vabbè se qualcuno si chiede come funziona questo mazzo qui è un control è un control che nei primi due barra tre barra quattro turni deve gestire gli aggro o i control deve fare prima vantaggio lui lo può fare tramite tre carte sin in blood reprieve e clean to dust oltre ovviamente allo scarto e poi da un certo punto in avanti atta grazie mille per il quarto mese grazie di cuore congratulazioni alla community non a me grazie e poi a un certo punto appoggia necro dominance o anello oppure sorin vain ripper o golem o saint elenda e via e vince così è così è così è semplice è molto semplice da giocare è bello ha due win condition she old red o vampirone ovviamente ma c'è anche sorin ma c'è anche sorin che spara in base alle le vite che guadagni e ne guadagnerete molte perché avete le marce bellissimo bellissimo poi 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 non è finita perché ho chiesto anche un po' sul discord e sono arrivate altre liste quelle di cui abbiamo già parlato tipo il prof che ha fatto 6-0 con la nuova combo reanimator adesso non ve la faccio rivedere ancora ma vi voglio far vedere questa lista qua ve la faccio vedere immediatamente eccola switcho qui velocissimo questa lista qua è arrivata per ultima di zampa credo ecco è primal prayers combo alla fine è un primal prayers combo che ha fatto 6-1 è l'ennesimo combo ragazzi è l'ennesimo combo è l'ennesimo combo combo sicuramente buono è una bella lista è un bel combo è un po' più forte di squire il combo quindi ci sta nel formato ci sta veramente bene e raga io ho poco da dirvi cioè chiudo questo discorso prima di iniziare la tier list ribadendo che dal mio punto di vista se io devo analizzare i risultati di un evento così importante e giocato da giocatori forti per me per me da domani potrebbe cambiare tutto il meta e diventare combo control e l'aggro inizia a scendere non mi stupirei di questa cosa anche se essendo tutti i combo molto costosi è molto probabile che negli eventi soprattutto in best of one per farmare per i nuovi giocatori rimangano anche tanti gattini perché è budget il mazzo rispetto a questi però sappiate che i mazzi più forti sono questi punto e da qui e da qui tier list